Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui con SaintsRomi, ritrovati di nuovo vestito così in gonnella perché non sono tornato diciamo a casa per cambiarmi anche se forse sarebbe stato meglio ho visto le nostre, fermo fermo voglio la macchina voglio la macchina ho bisogno di una macchina visto che non siamo certo si trova una roba del genere che gli ruba la macchina comunque vediamo un attimo sulla mappa perché a parte il fatto di accettare una nuova missione io avrei un attimo necessità anche di munizioni perfetto, mettiamo il gps qui e nel frattempo attiviamo anche una missione il ritorno di Nightblade vai e mi ha tolto giustamente quella mia ah no ci passa uguale, perfetto è l'ultima missione come detto abbiamo dovuto fermare una trasmissione perché c'era uno in modo indagente guardate che parcheggio è sportivo ok? la lascio un attimo qui, abbiate pazienza e servono un po' di munizioni un bel po' di munizioni e soprattutto allora granate ce l'ho, pistola intanto ho anche un po' pochi soldi e altra roba, vabbè un po' di lanciarazzi così random va bene, possiamo migliorare qualcosa tipo una pistola no sta già a livello 4 e questo? cosa ci metti? caricatori aumentati costo 19.000 c'è uno 18 vabbè ciao ho appena speso un milione di dollari per per i cosi la per i potenziamenti quelli così ho comprato qualcosa random andiamo va permesso scusi eh non vede che c'è una donna al volante almeno noi sfruttiamo il fatto di sembrare cacca troia oddio è difficile sembra a parte che abbiamo un capello che fuoriesce dal tetto ma nessuno dettagli non sembra effettivamente forse c'è qualcosa tipo la barba che potrebbe far cambiare un attimo l'idea sul sul nostro mini panda cioè mini panda le palle questo panda panda non so cosa sia quello sia il mio eroe boh vediamo sto negozio di fumetti che si trova in culo al mondo a quanto pare questa è già la zona più un po' più presidiata dalle forze del scusi scusi eh non volevo dalla polizia diciamo ho provato a evitarla in tutti i modi ma proprio non ce l'ho fatta anche lei ce l'ho messa tutta per evitarla oh scusi dovevo andare dall'altro lato sbagliato permesso questi motociclisti sono pericolosi comunque aspetta nel frattempo mi compro scusi eh ci compriamo la palazzina dai se ce la facciamo coi soldi quanto costa eh hai voglia vai giocola factory diciamo pure la gola che volete di più dalla vita oh scusate permesso scusi scusi eh ma pure tu ti metti in mezzo alla strada a pegora non è che se poi arriva uno e ti in veste ci può anche stare diciamo era previsto veramente vedeva le figure secondo me stag is using night blade as their mascot stag is using night blade as their mascot we snatched the punk set it up right look at the drop on those motherfuckers um um excuse me come 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 no Allora, occhio a questo, guarda che pirati Permesso, scusi Allora Andiamo al centro Pierre Guarda quello che attraversa senza guardare Poi ti investo, non ti puo mica lamentare, scusa Piano piano, chiama fiancata No, siamo andati lunghi Non ci siamo qua, permesso, scusate Scusate, sto passando un po' Marcia a piede, ma sono dettagli Non possiamo entrare così Vabbè, entriamo in modo cazzuto e cattivo Permesso, permesso Permesso Salve Possiamo? Salve Ad accesso limitato, quindi ci spaccheranno il culo Ah, possiamo andare All'ascensore Salve, permesso Abbiamo il permesso Salve Dai Stai lasciando un'area ad accesso limitato Quindi qua possiamo fare i porci comodi nostri Perfetto Trova Josh Birk Salve Josh Birk Si, ci riscaldiamo Ci riscaldiamo Ok Però Non sta male Ce lo portiamo così? Sì Ambiate pazienza Sì, ma dammi una mano Cazzo Sto Dall'altro lato Cazzo Sto con sto mezzo morto sulle spalle Dove cazzo si esce? Dall'altro lato E dimmelo prima No No, qua stiamo Andiamo un po' va Scusate Non è come sembra Ok, piano, piano Cioè, non piano, veloce Scusate Sto facendo delle strage Cioè, sono morti tutti tranne queste Vabbè Sta cosa comunque non serve un cazzo Sto leader A parte che spara tre colpi Indipendentemente da quello che gli dico io Ma sta puttana Mi sta da una mano Invece Di che cazzo sta a fa' Che mi stanno a rompere il culo questi Ma vaffanculo, va Mi stanno a devastare Metti la pistola, va Tagliela Sono tosti questi Comunque Oltre al fatto che quella Non mi dà assolutamente Una mano Ma c'è Ma vaffanculo Dai Guarda sta puttana Ma li sparo io Ma c'è la troia Cioè, non solo io mi devo guardare Le spalle da solo Sto portando questo Sulle spalle Tra l'altro E quella neanche mi segue Sti cazzi Senti, per favore Tu dovresti darmi una mano Invece di aprire la bocca a vambera Tu cazzo scappi tu Per favore Tolli tu Sparo nelle gengive Ve lo dico In amicizia Scusa, ho questo dito Che sta tentando Di inchiappettarmi Non potresti darmi una mano No Ma vaffanculo Allora Io vado per conto mio Questa la lascio là Sti cazzi Tanto non è Molto di aiuto Vaffanculo Guarda questi E che Normale che me l'ha andata a comprare Guarda quello Sti colpi sono veramente Fighissimi Scusa Faccio rimbalzare Vai così Vai così Alla far west proprio Vai Andiamo Salve Andiamo Ok Stiamo caricando Guido io Una macchina a caso Aspetta Quale macchina Ah ok Quella Andiamo va Ah no Da in là sta fuscita Cazzo E dai Levatemi Oh scusate Andiamo va No 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 Facciamo cazzate Non mi abbrustolite la macchina Figli di Guarda che cazzo Di Vai state fuori Vai vai In fuga In fuga totale Vaffanculo Guarda quello Un po' di danno Sono dettagli Piano Occhio Scusi Siamo arrivati Perfetto La vespetta Anche arrivata Siamo stati noi Il ritorno di Nightblade Perfetto Bene ragazzi Adora a questo punto Noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Con il nostro Sinsero Vediamo cosa ci facciamo Con questo tipo Magari Il completo da cardinale Bellissimo Adesso ci metteremo Il nostro completo da cardinale Anche perché Molto proprio Il meteo è sempre meglio Del tipo da Barista Dell'Octoberfest Bene ragazzi Allora ci vediamo Al prossimo video Ricordatevi di iscrivervi Anche alla pagina Facebook Un saluto a tutti Da Quel taleale Grazie a tutti Grazie a tutti